In questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiane. Nio Talk Show ha tre ospiti fissi in studio, tutti e tre sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il quarto ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Mio Talk Show dove si dibatteranno tanti temi d'attualità quotidiana. Grazie per la visione!